No, io temo. Fumo e alcol abusi e fumo alcol e abusi e mn u 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 uso a u u u u u u u u Bene, cominciamo con una fotografia La fotografia è questa, la vedi? Dove siamo? Dove siamo? A casa? No, non siamo a casa Udipiadu maiestra vetrina? In un? Bar Ma non siamo in un bar Nel mini bar, il ristorante Siamo al ristorante Siamo al ristorante Chi vediamo? Vediamo la donna Una donna e un uomo Bene, chi sono fratello e sorella? No, fidanzati Sì, sono fidanzati Bene, che cosa fanno? Bevono Che cosa? Alcolici Ma quali alcolici? La grappa? No Il vino bianco Bevono il vino bianco Beh, stanno cenando Sembra una cenetta romantica E stanno bevendo il vino bianco Sì? E parlano E parlano, sì E ridono Giusto Giusto Bene Senti Già da diversi anni Sui pacchetti delle sigarette C'è scritto Il fumo danneggia i polmoni Il fumo uccide Il fumo è dannoso alla salute Ok? Ok E c'è scritto chiaramente Da Un'az Una vera Un'az 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 Più o meno Sono come minimo 20 anni Che ci sono queste scritte Negli Stati Uniti Credo che anche prima Abbiano cominciato Va bene Ma Nonostante questo Nismatrianeta Nonostante questo Molte persone fumano Lo sa C'è scritto Lo capiscono Lo sanno Che il fumo fa male Perché fumano? Perché tutte queste persone fumano? Perché non Smessero Non 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 Possono Sì Possono Smessere Smettere Smettere Perché non possono smettere Non c'è da stato Cioè Non possono smettere di fumare Di fumare Ne tre Beh È difficile Smettere di fumare Va bene Ma allora Se 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 le persone sanno Che il fumo fa male E sanno Che è difficile Smettere di fumare Perché Cominciano a fumare Perché Cominciano In bambini Da bambini? No Da giovani Da giovani Da giovani Sì Perché Non smettere Non smettere di fumare Non smettere di fumare Ma scusa Cominciano da giovani E da giovani non hanno il cervello Non smettere di fumare A Abitudine Abitudine Fumo Fumo E fumano molti anni E fumano molti anni Va bene Fumano al bar Sì In discoteca Sì Fuori Serata Quando escono la sera Quando escono la sera Sì E si incontrano Sì Insieme Streccei Zarmisti E fumano tutti Sì Perché Fanno Figurati E Fingono Pritvarezza Fare finta Fanno finta E sderto vita E sderto vita Stessi Stessi Drog per il drugo Ah Fanno finta Di Stanno Zrosso Di essere Di essere Adulti Adulti Fanno finta Di essere adulti Sì Beh Si fingono adulti Tu ce l'hai Ma scusata Si fingono adulti Va bene Va bene Va bene Natalia Ma dimmi una cosa Tutti Sappiamo Che il fumo Fa male Che il fumo E' la prima Causa Del cancro Ai polmoni Beh Ma allora Perché Lo Stato Facciamo Casodastra Non solo Non proibisce La vendita Delle sigarette Ma addirittura Ma addirittura In cassa Eh Le accise Eh Pocele Nippon Scele Analoghi Eh Perché Perché lo Stato Non dice Va Da oggi Basta Non si fuma più Perché Perché Gli alcolici Le sigarette Non si fumo Non si fumo Non si fumo Gli alcolici Gli alcolici Propuscaci A По-Italianzco Нельзя Пропускать BIT Es Es Definitiv Они Есть Не Имеют Они Есть Sono 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 Что Sva cosa? Gli atto? E' lo dico. Gli atto. Gli atto? Gli atto? Gli atto? Gli atto? Stor? Gli atto? E ti ricordi il tuo l'istocci? C'è un l'asso. C'è un l'asso. C'è un l'asso. Non rappresenta l'asso di l'asso della russazione? Che è un'esso della russazione e della russazione di russazione? FONTAN! FONTAN 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 Allora perché il fumo e l'alcol sono la principale fonte d'accordo? di di ah di iva di iva di il non che non 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 quindi Natalia tu fumo? No. Hai provato almeno una volta nella vita a fumare? Sì. Quando? Quando ero da giovane, quando ero giovane. Ma quanti anni avevi più o meno? 18. Avevo 18 anni. Bene. Perché hai provato a fumare? Perché fumavano i miei amici. Bene. Hai provato a fumare una sigaretta? Madonna. Madonna. Non impriamo a video. Beh. Scappiamo. Ce la battiamo? Se lo risposto, non c'è la cosa. Non c'è stiamo. Beh. Natalia. Hai provato a fumare questa sigaretta? Che cosa hai provato? Una brutta... Una brutta sensazione. Una brutta sensazione. Bene. Sensazione è un'insensazia. È da susscini. 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 E da quel momento non hai mai più fumato? Susscini. 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 Ogni... mai. Ogni... In and... Ogni tanto. Ogni tanto. Bene. Ma quando hai smesso? Sono... 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 Sei anni... Sei? Che? 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 Non fumo. Bene. Brava. Sono sei anni che non fumo. E perché hai deciso di smettere? Facciamo dire, Sheila Brosit. Perché hai deciso di smettere? Perché non voglio... 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 Non mi piace No, non mi piace Perché non mi piace? Ma quando fumavi, quante sigarette fumavi al giorno? Uno o due Uno o due, uno o il massimo due Va bene, va bene Non mi piace Svinzovo e nebo, eh? Beh Posso magari in italiano cantare Cielo di piombo Eta Nieba is finza Lieba is finzo I mena caprilagatene Cielo plumbeo Bene Passiamo alla seconda parte Parliamo di alcol La gente non solo fuma Ma anche beve le bevande alcoliche E finché bevi un bicchiere di vino a pranzo E un bicchiere di vino a cena Non c'è niente di male Ma se bevi di più Se bevi tanto vino Se bevi tanta birra Se bevi le bevande super alcoliche Cricchiere Allora cominciano i problemi Eppure Soprattutto fra i giovani Nel fine settimana L'uso delle bevande alcoliche è molto diffuso Bene La gente perché beve? Abbiate Soprattutto fra i giovani La gente beve No La gente beve Le persone bevono Nel mondo Sì Tutti Tutti Va bene Io non lo nego Ma perché? Perché Frequentano Al ristorante Ma in realtà Non è stato Io ti bevi a pittà No Alcoliche Non per calose Se bevono Bevo Se si bevono Un bicchiere Se si bevono un bicchiere Va bene Ma questo io ce l'ho scusato per le basiliche Noi ho riuscito a betta Riuscito a tom Sto Birut Butelco In acinale Bucayot Bene Allora Perché la gente fa così? Nervoso Per la gente nervosa Per calmare i nervi Nervoso Perché Non c'è Lavoro Eh Non c'è lavoro Sono disoccupati Le persone sono disoccupate Non famiglia Non hanno una famiglia Non amici Non hanno amici Va bene Allora Tu mi vuoi dire che L'alcol è la soluzione Ad ogni problema E da riscegni Le buoi problemi Va bene Va bene Però Attenzione Non tutti arrivano Al livello di essere Alcash Budjet Alcolizzato Alcolizzato Alcash Non tutti arrivano Al livello di essere Alcolizzati E per fortuna Però Ripeto Soprattutto Soprattutto i giovani Quando il sabato Il venerdì sera Il sabato sera Escono Bevono molto Non sono proprio Colcalizzati Perché magari Durante la settimana Non lo fanno Però nel fine settimana Quando escono Con gli amici Bevono E non si fermano Al bicchiere di vino Magari bevono Due birre Magari bevono Un po' di vino Al ristorante Bevono due birre Al bar Poi vanno in discoteca E ordinano Una vodka Un whisky Un cognac Un Grand Marnier Una tequila Bene E alla fine della serata Hanno bevuto molto Perché Giovani che in teoria Non dovrebbero avere Grandi problemi Perché Hanno Bene Salute Godono di buona salute Perché Non lo piet Un'altra Buona salute Non lo piet Ma è Non lo piet Non lo piet Non lo piet Non hanno niente Da ambire Quindi bevono Ammazzano il tempo Bevano Vremeni Vremeni Bevano No Наверное No Non c'è Cultur Pite C'è 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 Non sono Capace A bere C'è 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 Cosa bevi? Prima te ranci. Oggi te si voglia. Adesso? Adesso il vino bianco. Sì. Sfumante. Sì. Lo spumante. Il vino rosso. Sì. Tutto. Non bevi super alcolici? No, perché ho mal di testa. Mi fanno venire mal di testa. Mi fanno venire mal di testa. E voglio andare a letto. Voglio andare subito a letto. Va bene. Abbiamo finito per oggi.